ATTENZIONE! Questo gioco viene considerato il gioco più pauroso del 2014, e magari 2015, bla 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 bla! Dopo questo sicuramente video, Bayon Community Mancherà per i prossimi 5 anni, quindi se ormai state leggendo questo messaggio, ormai il video è stato pubblicato, e non potete dirgli, NO BAYON, NON FARLO! Quindi detto questo, buona visione! Grazie a tutti! Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, sicuramente dopo questo video sarò sicuramente defunto, perché questo gameplay è più horror possibile. Stiamo parlando di Five Nights a Freddy's, io farei un nuovo game! Ecco qua! Freddy Fazbear's Pizza! Family Pizzeria looking for security guard to work the night fun... So le 12 del mattino! Devo resistere fino alle 6! Io non volevo manco farlo sotto gameplay! Però la gente mi ha costretto! Ecco fatto, quindi così ci possiamo muovere! Sì! Come si risponde? Sì! Pronto? Eh, pronto! Dimmi! Ehm... I wanted to record a message for you... To help you settle in your first night! Non capisco... I... I... I am Italian! Sono italiano coglioni! Vabbè! Vaffanculo! Ci vediamo! Perfetto! So come si controllano le telecamere! Perfetto! Io alla fine mi devo controllare solo queste! Perchè alla fine sono loro i bastardi malediti! E io c'ho le luci door, light e door, light! Perfetto! Perfetto! Questi mi stavano abbastanza tranquilli! Per adesso! Wow! Che cazzo è questo suono? Che cazzo è questo suono? Mi sembra che nessuno si sia mosso! E' solo lunedì mattino! Passa veloce il tempo! E mi sto ancora cagando addosso! Eh? Chi è quello? Questi stanno fermi! Per adesso! Ho paura! Ho paura! Ho paura! Ho paura! Chi è? Qualcuno si è mosso Qualcuno si è mosso Picken Per farmi capire bene i comandi Eh, lì c'è qualcuno Vedo degli occhi Quindi Sarebbe che questi non si muovono Eh, strano Primo livello, facile Già da primo livello non vuole farmi fare niente Oh, 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 oh Quello È un quadro o Non c'è nessuno Ho capito perché mi vogliono far fare la notte 2 Perché la notte 1 non si muove nessuno Per quello c'era Ecco perché io Quando sono andato a fare nuova partita Vi preoccupa questo A me mi incute paura Almeno mi ambito un po' Ah, questo qua è il primo livello E credo che È già un miracolo se mi salvo Oh, cazzo Eh, 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 oh Che cazzo stai facendo, eh? A chi vuoi rinforzare i coglioni? Eh? Sono le 4 di mattina Eeeh Ecco che tu ti stavi muovendo, eh Bastardo Che cazzo stai facendo lì? È impossibile che vengono da qua Oh Eh? Ma il pinguino dov'è? Eccolo Eh Dattene lì Stai lì E ti chiudo Perché non entri Ok Eh? Orsa Figga Ok Grazie Wow Ma, perché quando schiaccio una volta non funziona? Ma ve la pigliate nel culo Tronzi Ancora lì sono Oh no! No! Tu no! No Togli No, 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 no Sono un coglione Cazzo no Merda Che culo! Che culo! Cazzo, sentivo i passi, stavo per arrivare, cazzo No Devo accendere solamente quando è possibile, non devo fare cazzate Come adesso, però è già il primo livello No! Nooo! 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 Noi tutti i miei amici tendono a diventare più attivi quando si progressa Minchia, lo schiaccio una volta e me lo schiaccio a 50 mila volte Eccolo qua, millo, già ve ne hanno permesso i coglioni Questa qui non mi piace, questo qui o questa qui Che cos'è Eh no Non è stai libero mi Non mi rompi le palle Mi sto concentrando E quando è preoccupante è quando se ne va lui Nooo! Nooo! Si Di caso scemo! E' ancora lì Oh Porca puttana, dove è andato? E sono solo le due del mattino Centro di rumori Eccolo Devo controllare quella porta lì Perché viene molto spesso da lì E' un maledetto, non lo voglio più Non ti voglia, vattene via Eccolo Vabbè ancora è lì Ma ne può fregare meno Ma guardami pure Ma sei andato qua Che mi spegni le telecamere Ragazzi questo gioco è terrificante Sto tremando come un coglione Perché Eccolo Ti pareva Eccolo Adesso stiamo fermi così Però la batteria si scarica così Guardate quello come ride Sono all'8% Sono fottuto Ti prego Fai le sedi del mattino Sono all'8% Sì, 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 sì. No No Sono pregato No Non voglio guardare Sono fritto Morto Morto Finito E non voglio guardare Non voglio morire Ah Cazzo Verda Orca troia Ah 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 Quindi ragazzi Per questo video è tutto Farò la seconda notte Terza notte Quello che è Per questo video è tutto Un saluto da payon community Quindi ciao a tutti Ah Ah Grazie a tutti.